Oggi siamo ospiti nello studio di Piero Gemelli. Piero, grazie per l'accoglienza. Piero Gemelli, quindi architetto, fotografo. Tu sottolinei spesso, giustamente, che hai iniziato in realtà facendo studi di architettura. Sì, ci tengo ed è una cosa che ha una grossa rilevanza nella mia formazione. Io penso che architettura sia più che una professione un modo di costruire la mente, un modo di vedere, un modo di elaborare, di analizzare e di progettare qualunque cosa, non necessariamente quello di un edificio, di un'abitazione o di una pianificazione urbanistica. È un modo, è un modo di mettere in relazione sentimenti e aspetti pratici, cose che ho tutto portato poi dentro il lavoro che faccio, perché fotografia alla fine è stato un lavoro fatto di sintesi tra una necessità, punto d'incontro tra una necessità del cliente per il quale devi rappresentare qualcosa e devi tirarne fuori l'enfasi giusta che lo valorizzi, e tutto quello che è appunto i riferimenti emotivi, i riferimenti iconografici, qualunque cosa che possa aiutare a creare questa immagine o una corretta lettura dell'oggetto stesso. Per cui alla fine io vedo un'analogia, non vedo una differenza. Senti, questo studio meraviglioso è stato progettato da te ovviamente, mi dicevi una cosa che mi ha molto colpito, non collezioni fotografie di altri, quindi queste pareti sono totalmente parte del tuo lavoro. No, non colleziono fotografie perché alla fine ho delle fotografie di altri, ma non con questa necessità di averle, di vederle, di relazionarsi continuamente. Anche con i libri di fotografia sono abbastanza, come dire, ne ho pochi. Non vedo volentieri cose, anche perché poi cosa significa? Abbiamo una necessità di vedere e di collezionare immagini, emozioni, che poi sono quelle sulle quali costruisci delle cose nuove. Ma al tempo stesso il troppo rischia di essere condizionante in qualche maniera e quindi sono sempre stato un po' attento a non guardare eccessivamente cose. Piuttosto vado a guardare quelle che sono tutto quello che è acquisito, quindi quello che è storico. Allora certamente sì, pittura, scultura, architettura, qualunque cosa sia, e certo fa parte di un bagaglio, di una ricerca, o addirittura di ambiti di studio all'epoca in cui si studiava, architettura per gli esami o quel che fosse. Adesso guardo, ma se io devo progettare una casa non mi metto a guardare le case degli altri, ecco questo è quello che voglio dire. Per cui se faccio delle foto non guardo le foto degli altri. Il collezionare fotografie, beh, ne ho talmente tante, già di mio, e per molto tempo ti dirò, non ho mai esposto fotografie mie nello studio. Quando questo spazio era solo studio non c'erano foto esposte. Perché ogni foto che fai è una foto nuova e poi questo mostrarsi eccessivamente non mi è mai piaciuto tanto. Questa è un po' una caratteristica personale. Invece è meravigliosa. Invece il tuo rapporto con gli oggetti. Io vedo, ci sono angoli che raccontano tantissimo e che raccolgono una serie di collezioni, no, di specie diverse. Vedo delle maschere, vedo dei busti, dei ritratti. Che rapporto hai con gli oggetti? Gli oggetti hanno un rapporto morboso. Ogni cosa è una storia, come le persone. La differenza è che le persone è un po' problematico raccoglierne troppo intorno a sé. Gli oggetti li puoi raccogliere. Ogni cosa ha un qualche riferimento emotivo con un precedente, con un fatto, come dire, accaduto. Qui va fatta una precisazione che racconta un po' bene. Devo tirare dentro una storia diversa. Abbiamo, con Maria Vittoria, anni fa, Maria Vittoria Baravelli, che è una curatrice, conosci benissimo, e abbiamo fatto una mostra qui, ed io ero reticente su questo aspetto, perché non volevo, dico, faccio la mostra in uno studio mio, a casa mia, in una roba che non mi funziona. Invece lei aveva evidenziato un aspetto che mi ha molto preso, molto colpito, che questo spazio racconta, ed è come la didascalia di quello che tu fai, cioè racconta perfettamente cosa c'è dietro, perché una foto, quando la vedi, per quello che è, è una foto e finisce lì. Invece la sua origine, il punto emotivo da cui nasce, è rappresentato da tutto quello che c'è qua. E questo posto, che comunque era studio mio fino a più di dieci anni fa, poi è diventato casa, ultimamente ha preso un aspetto completamente diverso e molto più pertinente a quello che è la mia parte emotiva. In più poi, per questione di relazione e di affetto, è diventata anche un'espressione di quello che è lei. Per cui si è mischiato i due elementi. C'è una corrispondenza, certo, inevitabilmente è il mio studio una preponderanza delle mie cose, ma la lettura che ne è stata fatta e gli accostamenti che sono qui oggi sono un racconto fondamentalmente. Credo che abbia ragione. E a me io le ho dato talmente tanto ragione che sta qua, che mi ricama pure i cuscini. Che ricama anche i cuscini? Meravigliosi, devo dire, tra le tante cose che sa fare, si è messa anche a ricamare con le tue... No, in realtà... Questi sono tuoi disegni. Sì. E lei le ha ricamate. E lei le ha rimessi giù. Bellissimo. Ma l'abbiamo fatto per gioco durante il lockdown, perché sai, quando stai chiuso qui dentro, è vero che qui si stava chiusi bene, comodi, però la noia è noia, quindi alla fine... Ma non ci si annoia qui, dai. No, no, però è sempre noia. La noia ce la portiamo dentro, siamo noi annoiati di noi, poi... Questo è un altro discorso. E quindi così è nato. Io avevo fatto dei disegni e lei su un cuscino lì di prova, guarda, lì ce n'è un altro, su un cuscino che era qui bianco, ha detto, proviamo a ricamare, vediamo come vengono. E poi ne abbiamo fatti un po'... Senti, Piero, tu lavori con la bellezza da sempre, ma che cos'è per te la bellezza? Non è una definizione nuova, perché è sicuramente stata, come dire, detta e teorizzata da ben altri, più importanti di me, però per me dico sempre che è il punto di equilibrio tra imperfezioni. Quindi non deve essere una cosa perfetta, anche perché la perfezione è statica, l'imperfezione è dinamica, è nell'errore che si crea un qualche cosa, è nel piccolo difetto che si pone l'attenzione, si guarda. Allora, se una piccola imperfezione la si sa valorizzare a modo e la si, come dire, non la si nasconde, ma la si contestualizza in una maniera che abbia un carattere, diventa un elemento distintivo e come tale è un segno di bellezza. E nelle tue fotografie questa imperfezione è percentibile? L'ho sempre un po' cercata in qualche maniera. Cioè le mie foto, in particolare gli still life, sono sempre stati considerati di alta perfezione, lo dico senza nessun timore di dire qualcosa di modesto, tecnicamente perfetti sempre, è il soggetto che aveva sempre un qualcosina, diciamo, di non lustrato. Certo, la pubblicità di un profumo con tutto quello che c'è dietro, piuttosto che di qualche oggetto di estremo lusso non vai lì a fare qualcosa. Però in alcuni casi è stato possibile farlo. Nella tua ricerca personale. Sì, per la Coca-Cola ho rotto una bottiglia di Coca-Cola, voglio dire. Tu neghi l'oggetto, nel momento in cui lo neghi, gli ridai un valore nuovo. Come per la cultura cinese, che il vaso rotto, quando si va a ricostruire, diventa ancora più perfetto, per cui loro lo decorano con dei dettagli durati. Sì, io credo che il mio atteggiamento sia un po' diverso. Ho un atteggiamento verso gli oggetti da orientale. Io sono d'accordo che il tavolo è il signor tavolo. Che ha una sua identità, una sua anima, una sua necessità di rispetto e ha un carattere che va, in qualche maniera, rispettato e, dove possibile, enfatizzato. Il tuo rapporto con il tempo? È legato un po' a questo anche, perché le cose che perdono di attenzione o di bellezza per l'intervento del tempo, che comunque, come base, modifica. Spesso la modifica, è una distruzione. Io ho fotografato tantissimi fiori secchi, per esempio. Ho fotografato, ho conservato cose che si sono invecchiate nel tempo e che hanno preso un'identità diversa e hanno un'altrettanta bellezza. Verusca era bellissima anche nelle ultime foto che furono fatte da Vezzoli. Il discorso è sempre lì. È l'identità, il carattere e, in qualche maniera, il sottolineare l'unicità di quella persona o di quella cosa. Lavorando su quella, poi, se c'è un'alterazione temporale, ci sta. Siamo in continua modificazione. Certo. C'è un soggetto nella tua immensa carriera che ti ha particolarmente colpito? Un'attrice, una modella? Qualcuno che non hai avuto modo di conoscere, approfondire, ma che ti ha in qualche modo, non dico illuminato, ma che ti ha in qualche modo colpito? Per cui ancora ci pensi. Non mi riesce a dire così. Io, no, posso dire questo. Mi colpì quando, per interview a New York, fotografai Sonia Braga, un'attrice che negli anni 90 era conosciuta, faceva questa sop'opera in televisione, una piccolina argentina, mi sembro brasiliana, brasiliana, di una potenza, di una femminilità infinita. E me la sono trovata in studio a New York, tra bodyguard, segretari e duemila persone che ci blindavano intorno. Io ero abbastanza giovane, ero un po' all'inizio, siamo negli anni, fine anni 80. Lei è proprio all'apice. Io sento questa femminilità, cioè questa donna molto, molto forte, però ero un po' imbarazzato alla situazione e non posso non ricordare che lei mi ha guardato con un'aria di intesa, si è girata, tutti fuori. Ha mandato via tutti, siamo rimasti io e lei, e adesso ha detto, adesso siamo io e te. Cinque minuti abbiamo fatto la foto, poi siamo rimasti a chiacchierare, in un misto tra il suo, il brasiliano cos'è, il portoghese, l'italiano, un po' di inglese, un po' di... Insomma, in qualche maniera... Sì, perché io parlavo inglese mezzo e mezzo. Però ecco, mi è rimasta, allora che cosa mi è rimasta? Mi è rimasta la sensazione di quella donna. E quella foto ci sono molto affezionata. E poi lei, in quel momento, non ha fatto l'attrice, cioè non ha fatto la prima donna. Certo, è questo che ti ha colpito. Hai avuto, come dire, sei stato a contatto con tantissime donne, ne hai fotografate tantissime, e qual è però la caratteristica che più ti colpisce di una donna? Difficile, perché ognuna è un mondo a sé. Il problema delle donne è questo. Però come il problema? Mio figlio mi disse da piccolo una volta, guardavo una ragazzina, poi guardavo un'altra ragazzina, avrò avuto 8-10 anni, quindi siamo proprio nel momento in cui si cerca di... Mi fa, papà, ma come si fa a scegliere che sono tutte così carine? E io gli ho detto, hai chiesto alla persona sbagliata. Cioè, il fatto è che ogni cosa, ogni persona è un mondo a sé. Quando tu in quel mondo hai una proiezione personale, io proietto qualcosa di me che mi sembra di vedere e mi sembra di tornare indietro da te, io mi fisso su quella cosa lì e in fondo ne voglio far parte. E ognuno è un mondo diverso, quindi parli di modelle. Ogni modella, se esce, ogni persona fotografata, un'attrice o che sia, ma anche una persona normale che ha fotografato, se esce un po' dal suo ruolo e in qualche maniera è disposta a regalarti qualcosa di sé, beh, ognuna è una storia che non può essere dimenticata. E tu sei una persona che si regala. Vedi, per esempio, ci provo, poi magari non ci riesco. Vedi appunto Sonia. Vedi appunto Sonia. Però invece tu dai, insomma, per fama invece non sei uno che si concede molto facilmente. Le cose belle vanno bagnate. Senti, ma invece che amico sei? Cioè la caratteristica della persona che potrebbe essere amica tua, che cosa, quale principalmente deve avere? E se tu, e che rapporto hai con l'amicizia, visto che sei uno che si concede? No, non mi concedo facilmente. Siamo d'accordo. L'amicizia è un sentimento sicuramente molto enfatizzato. Dalle masse? Siamo tutti amici. Ah, la mia amica Miriam. Ah, il mio amico. In realtà dovrebbe essere molto esclusiva, dovrebbe essere abbastanza limitata. Per cui è un termine confuso, un po' come amore, no? C'è un termine un po' confuso, si generalizza parecchio. amico dovrebbe essere chi non ti tradisce, banalmente. Ma io ho amici che mi hanno tradito, per cui cosiddetti amici che mi hanno tradito. O si sono comportati in una maniera inaspettatamente tutt'altro che da amico, che dovrebbe proteggerti, dovrebbe, come dire, essere non l'avvocato, essere quello che ti fa capire che vede fuori una cosa che tu da dentro non riesci a vedere. Quindi ti aiuta magari a centrare un momento di dubbio, a centrare un pochino di più l'argomento. Dovrebbe essere una persona molto vicina a te. In realtà io credo che è difficile essere vicini ad altre persone. Già facciamo fatica all'interno delle relazioni ad essere davvero amici fino in fondo. Perché altrimenti non ci sarebbero tante situazioni che saltano. E nella scala dei valori la cosa più importante della tua vita? Cosa che viene prima? Ma il rispetto alla correttezza. Poi è difficile da realizzare perché ovviamente anche lì il rispetto che io posso ritenere tale non è detto che da te sia inteso nella stessa maniera. noi abbiamo un equivoco di fondo è che diciamo una cosa e gli altri capiscono un'altra. Io sono responsabile di quello che dico ma non di quello che tu capisci. E su questa ambiguità su cui poi è stata costruita tutto è un po' il difetto delle relazioni. E di cosa invece sei totalmente intransigente? L'ignoranza. l'ignoranza la volgarità più bassa anche se una parte della cosiddetta volgarità è affascinante perché è un po' il lato il lato sbagliato il lato brutto cioè siamo attratti dal bello come dall'estremamente brutto perché comunque il discorso che facevo prima l'estremamente brutto di fatto è bello perché ha una sua unicità una sua esclusività per cui il tutto è stare tra questi due binari senza cadere nell'equivoco come dire del credere troppo in uno o nell'altro fare un po' attenzione su quella roba lì però ignoranza e disonestà non mi piacciono. Senti il numero di settembre di snob parla di due macro temi il mondo eros e il mondo ethos raccontaci il tuo rapporto con l'eros no no ci sto lavorando ci lavoro da sempre da sempre eros è in ogni cosa adesso francamente ogni cosa genera come dire un sentimento di attrazione e di passione impossibile è eros qualunque cosa veramente eros è un oggetto di feticismo che si vuole avere che può essere per alcuni un telefono per altri un paio di scarpe quindi eros è in ogni dove questo tuo rapporto con gli oggetti mi piacerebbe poi approfondirlo invece ti faccio la domanda di rito che facciamo a tutti che è quanto sei snob si sarà capito eccolo ma infatti sono qui per questo no dunque snob è un termine che va anche lì riconsiderato e rivalutato snob di solito è la persona sbagliata è la persona che si fa vanto di qualcosa per cui no ma io penso che in realtà snob dovrebbe essere più vicino a un'interpretazione della ricerca della della propria bellezza e perfezione cioè una cosa che piace a te e di cui tu sei in una maniera molto snob entusiasta non ha detto che sia quella che piace a me fa sempre parte del discorso dell'unicità di ciascuno certo vanno rispettate tutte le differenze nel momento in cui per la differenza in qualche maniera diventa un elemento penalizzante aggressivo o come dire che ti crea un problema cioè che dove tu devi andarti ad adeguare a quella cosa non non l'accetto però è evidente la famosa frase per cui la mia libertà finisce dove comincia la tua il problema è capire dove vuoi far cominciare la tua rispetto alla mia e lo stesso è un po' anche sul concetto di essere snob essere snob non vuol dire essere puzzone vuol dire avere un atteggiamento positivo su certe cose magari di vecchia memoria e di un lusso che non necessariamente è fatto di zeri ecco esattamente quello che stiamo cercando di raccontare appunto con il nostro giornale grazie mille a Piero Gemelli io rimarrei a parlare con te per dirle ore però ti dobbiamo salutare dobbiamo sviluppare l'eros dobbiamo sviluppare l'eros e gli oggetti dell'eros grazie grazie a Piero Gemelli grazie grazie a Piero Gemelli grazie a Piero Gemelli grazie a Piero Gemelli